Dice così, nell'armadio della mia stanza su un lato mamma aveva conservato i suoi vestiti, quando ero sicuro che nessuno potesse vedermi li prendevo, li estraevo dal cellofan che li proteggeva e li appoggiavo sul pavimento, la giacca e i pantaloni con le maniche e le gambe aperte, poi mi toglievo le scarpe e mi ci sdraiavo sopra, occupavo una piccola parte di quella superficie di stoffa e le mie braccia appoggiate sulle maniche ben distese sembravano perdersi, allora prendevo con tutte e due le mani i lembi all'altezza dei polsini e portavo quelle braccia di stoffa simultaneamente su di me fino a coprirmi del tutto, simulavo la sensazione di un abbraccio e immaginavo il suo calore, così per averlo un po' con me. Grazie.